Aos, le infermiere hanno visto che sei qui. Entra! È un bagno. Ah, si spiega il buco in questa sedia. Mi mancavano le porte e i deodoranti. Ora vattene, sto aspettando i risultati del test. La paziente ha chiesto di non essere rianimata. Qualcun altro prenderà quei polmoni. Sarà un'altra interazione con te da cui non ricavo nulla. Non è colpa mia se non sai gestire la paziente. Non farà più niente. Ho cercato di farle cambiare idea. Ha preso la sua decisione e io l'ho accettata. Si chiama rispetto. Che c'è dopo il rispetto? Provi altre strade. Le tieni la mano. La fai supplicare della sorella. Ti infili le dita nelle orecchie e fingi di non sentire. Tutto quello che serve. Oh, tutto quello che serve. Grazie House, non ci avevo pensato.